Schena assicurazioni generali Garibaldi Sesto posto livello italiano per Katia Nana, nei campionati tricolori di Corsa Campestre, chiusi domenica in occasione della festa del Cross, che per il secondo anno consecutivo si è svolta a Gubbio. L'atleta della Polisportiva Al Bosaggia ha centrato un grande piazzamento sul tracciato disegnato nei pressi del famoso anfiteatro romano, nella prova vinta dalla figlia d'arte Nadia Batocletti, trascinando le compagne Gaia Bertolini e Federica Eterovic sul secondo gradino del podio a livello societario nella categoria lieve. Su Prati di Gubbio, attesa a livello signore, sa anche l'atletica alta a Valtellina, che pure orfana di Amy Collins e Valentina Berotti, assenti per infortunio, è scesa in campo per difendere il titolo italiano, conquistato lo scorso anno. Guidate dalla capitana Elisa Desco, le compagne Elisa Sortini, Elisa compagnone dell'Essia Zecca, hanno chiuso il diciannovesimo posto, causa anche il ritiro forzato della Desco, che è stata costretta ad alzare bandiera bianca all'ultimo giro per via di un forte dolore al rene. La segnalaria è la quattordicesima piazza assoluta di Alice Gaggi, in forza della Ricastello e la Ricci Group, con la cui società ha chiuso il decimo posto. Presenti in terra umbra anche i ragazzi del Cessi in Morvegno, con Stefano Martinelli, ventiduesimo nella prova Juniors. In ambito maschile, nella prova Senior, ottava piazza per l'atletica Valli Bergamasche, nel cui l'ango ha schierato anche il zondalino Massimiliano Zanaboni.